Richard Philip Henry John Benson. Questo è il nome anche se molti sostengono che in realtà il nostro si chiami Riccardo Benzoni o al massimo Benzoni con la zeta. Qualunque sia il suo nome, qualunque siano le sue origini, Richard Benson è un fenomeno da palcoscenico. La sua cultura musicale e la sua bravura con la sei corde sono leggendarie. Come è stato argutamente osservato, Richard Benson sta alla musica rock, come Erpomata di Febbre da Cavallo sta alla commedia all'italiana. Ma in definizione fu più calzante. Che musica facevate? Cream, Jimi Hendrix, quelle cose là. Il primo rock blues. Questo era il nostro rap. City on top of the world, mi ricordo. I am sitting on top of the world. E il grande chitarrista, morto in aereo? Paul Kossoff, no. Sì, sì, Paul Kossoff. Non morì in aereo. Sì, è morto in aereo. No, non è morto in aereo. È morto sbattendosi dalla droga il cranio contro il muro finché non morì. Paul Kossoff. Non è morto in aereo. No, non è morto in aereo. Io so che signor Kossoff siamo arrivati e era morto in aereo. No, non è morto in aereo. Dobbiamo rivederla questa cosa. No, 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 mi dispiace, sono tutto.